Ciao a tutti ragazzi, da Andrea in questo nuovo video di cui faccio un unboxing del CD nuovo di FedEx che è uscito oggi. Minchia Megapavo a Potenza che lo stavo io aspettando da una vita. E oggi è uscito. Allora ragazzi, va tutto bene voi? Se torna a casa del lavoro e guarda cosa si fa. Video. Si riposa mai? Guarda cosa c'è dentro. Allora, come leggete Deluxe Edition contiene un nuovo album di FedEx più la t-shirt più pass-free soundcheck che non so ne cazzo vuol dire perché in inglese non sono amiche. Ma guarda come sta maglietta amiche a Pavo a Potenza, spacca tutto. Non entra anche il CD. Vabbè, dopo lo vediamo. Eccolo qui, apriamo. Guardiamo se il mitico FedEx ha fatto una roba mega Pavo. Lo apriamo. Eccolo qua. Questa è una maglietta di FedEx che ci ha messo. Cioè una perché poi comunque ce ne sono, come so già, che ne avrei fatti tanti di più. Ok, questa è una maglietta di FedEx, come avete visto. Poi c'è questo qui. Free Soundjack FedEx che sarà il concerto che tu puoi entrare, penso che puoi parlare con lui e tutte quelle robe lì. Trovi tutte le info su questo sito qui. Questo serve. Chi non c'è questa non può entrare. E questo qua è il CD di FedEx. Si chiama FedEx presenta Pop Holist. Pornografico. Vabbè, le canzoni sono. Le dico io perché si vede poco col flash. Allora, Pop Holismo. Generazione... Boh, vivere in campagna pubblicitaria. Bella tormentata da Brox. Perino per Topic. Voglio... voglio averti account. Moet Shandon. Magnifico. Non c'è due senza trash. Sirene. L'hai voluto tu. Love Coast. Popolista. Sì. Cardinal. L'amore eternit. Come no. Stereotipi. Olivia Hoyle. Viva Liva. E mia. M.I.A. Vabbè. Comunque sono qui. Si vede di merda. questo. Le pillole del cazzo. Anche qua. Tata tata tata. Cd è questo. L'avete già visto. E questa si trova a GameStop. Poi invece sono anche la media. Oro altre. Spero che questo video su Mega Power vi sia piaciuto. Eeeeh... Vi auguro una buona serata e alla prossima. Ciao ragazzi!